Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui per il pronostico gameplay di Sampdoria Napoli. Penultima giornata di Serie A, partita assolutamente da vincere. Bisogna vincere queste ultime due partite che mancano alla fine del campionato per superare i 90 punti. E per onorare questo campionato fino alla fine. Per quanto riguarda la formazione l'unico cambio dovrebbe essere quello di Milik al posto di Mertens, mentre il resto dovrebbe essere tutto confermato. Si parte ragazzi, Sampdoria Napoli. Comincia la Sampdoria. Barreto va indietro da Ferrari. Ancora Barreto in avanti per Ramirez. Poi sbaglia Caprari, però sbaglia anche Callejon. Attenzione Caprari supera Coulibaly, poi Quagliarella in mezzo per Ramirez. Ramirez che sbaglia, meno male qui ragazzi. Rischiamo. Ramirez che non riesce a tirare bene e quindi il tiro è alto. Reina va vicino da Coulibaly. Mario Rui. Amsic. Giorginio va da Milik. Milik vede Allan. Allan va da Callejon che però viene anticipato da Strinic. Poi Ramirez per Quagliarella. Caprari va da Torreira. Barreto per Caprari. Caprari attenzione il pallone è a Berezinski che viene fermato da Mario Rui. Però poi c'è fallo di Mario Rui su Berezinski. E calcio di punizione per la Sampdoria. Battuto da Torreira. Allontana il pallone di testa Giorginio. E poi possiamo ripartire. Allan va indietro da Amsic. Mario Rui in avanti da Amsic. Amsic vede Insigne. Insigne va vicino da Allan. Poi Allan vede Isai. Isai la filtra per Callejon. Callejon cercava Insigne ma recupera il pallone Torreira. Torreira che avanza e va da Caprari. Caprari per Ramirez. Indietro ancora da Torreira. Torreira in avanti per Ramirez. Attenzione Caprari è solo. Tiro fuori. Meno male ragazzi. Rischiamo ancora. Abbiamo concesso due occasioni clamorose alla Sampdoria. Eravamo un po' scoperti lì in difesa. Giorginio va da Insigne. Mario Rui. Mario Rui sbaglia qui il passaggio e recupera il pallone la Sampdoria. Ramirez in avanti per Caprari. Quagliarella. Ancora Caprari che viene fermato da Mario Rui. Allan per Giorginio. Amsic poi va da Milik. Tutto di prima. Insigne va indietro da Coulibaly. Mario Rui vede Amsic. Amsic va ancora da Insigne. Insigne vince qui il contrasto. Insigne! Il tiro è deviato dal difensore. Poi la Paraviviano. Berezischi in avanti per Torreira. Berezischi. Torreira. Va da Praet. Ramirez. In avanti per Quagliarella. Ancora Praet. Praet va da Strinic. Nostro ex. Quagliarella. Quagliarella. Attenzione. Va da Praet. Praet. Lo ferma Coulibaly. Attenzione. Quagliarella. In mezzo per Torreira. E poi qui Berezischi. No. Anzi Barreto. Tira dopo il rimpallo che ha favorito la Sampdoria. però per fortuna il pallone è andato fuori. Torreira. Nostro obiettivo per quanto riguarda il prossimo calciomercato. Intanto c'è calcio di punizione per la Sampdoria. Stiamo soffrendo un po' troppo ragazzi. Ramirez in avanti per Caprari. Che però è in posizione di fuorigioco. Albiol. Batte il calcio di punizione e va da Isai. Poi Coulibaly. Mario Rui. Insigne. Vede Milik. Milik va da Allan. Gli prende il pallone Torreira. Davvero grande partita di Torreira. Sarebbe davvero un ottimo acquisto per noi. Amsic. La filtra bene qui per Insigne. Insigne vede Milik. Milik ci prova da lì. E c'è la parata di Viviano. Calcio d'angolo Napoli. Battuto da Callejon. Colpo di testa di Albiol. E c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Napoli ragazzi. Probabilmente per un tocco con la mano. Vediamo. Vediamo. Vediamo un po' meglio il replay. Allora ecco. Vediamo un po'. Ah. L'ha presa con la mano Ramirez. Ok. Calcio di rigore. Milik sul dischetto ragazzi. Parte Arek. Palo. Palo ragazzi. Peccato. Già l'avevo visto. Già l'avevo vista dentro con Viviano spiazzato. Ma purtroppo il pallone è andato sul palo. Eh vabbè. Mario Rui per Amsic. Allan. Vede Mario Rui. Amsic. In avanti per Milik. Milik. In avanti per Allan. Fermato da Silvestre. E finisce così il primo tempo. 0 a 0. Bella partita. Abbiamo sprecato un calcio di rigore con Milik. Ma tirare i rigori non è proprio il mio forte su FIFA. Comincia il secondo tempo. Milik va indietro da Amsic. Allan. Vede Albiol. Koulibaly. Mario Rui. Amsic. Insigne. Sbaglia qui. E recupera il pallone Barreto. Che poi va da Ramirez. Praet. Vede Caprari. Caprari in avanti per Ramirez. Lo ferma Albiol. Però c'è fallo. Calcio di punizione per la Sampdoria. Battuto da Barreto. Tiro alto. Reina va vicino dal Biol. Koulibaly. Amsic. Vede Allan. Allan per Milik. Milik vede ancora Allan. Allan avanza. Allan avanza e solo. La voleva mettere in mezzo per Milik. Milik che era solo. Forse qui facevo meglio se tiravo. Calcio d'angolo qui nelle mani di Viviano. Che poi spazza. Ci arriva di testa Quagliarella. Però poi il pallone è Amsic. Giorginio. Vede Callejon. Che poi va da Milik. però c'è posizione di fuorigioco di Callejon. Ferrari va vicino da Strinic. Praet per Caprari. Sbaglia qui. Giorginio va da Milik. Poi Milik va di nuovo da Allan. Milik. Sbaglia qui. Voleva servire Insigne. Torreira in avanti per Ramirez. Ramirez in avanti per Caprari. Poi Quagliarella. Attenzione. Quagliarella. Il tiro. Palo. Mamma mia ragazzi. Che tiro di Quagliarella. Attenzione. Ci arriva di testa Coulibaly. E poi Amsic va da Giorginio. Mamma mia ragazzi. Che tiro di Quagliarella. Che va sul palo. Callejon. Vede Milik. Milik è solo. Milik ci prova da lì. E c'è la parata di Viviano. Calcio d'angolo Napoli. Siamo 0 a 0. Ma è davvero una bellissima partita ragazzi. Calcio d'angolo battuto da Callejon. Al biol di testa. Amsic. Amsic. Il capitano. Marek. Amsic. 1 a 0 Napoli. Ci porta in vantaggio proprio lui. Il capitano. Qui siamo fortunati con il colpo di testa di Al biol. Che sbatte sul difensore della Sampdoria. La palla viene presa da Amsic. Che tira e mette dentro il gol dell'1 a 0. 1 a 0 Napoli. Gol del capitano. Rivediamolo. E' sempre bello quando segna il capitano. Si riparte dopo il nostro gol. Ferrari. Va da Praet. Praet in avanti da Ramirez. Quagliarella. Sbaglia qui. Il pallone ora è a Giorginio. Allan. Va in avanti da Milik. Milik vede Allan. Poi Isai. Giorginio per Milik. Tutto di prima. Amsic. Poi ancora Amsic per Milik. Questa volta c'è Ferrari lì a recuperare il pallone. Ramirez in avanti per Strinic. Quagliarella. Attenzione. Quagliarella avanza. Quagliarella. Caprari lo ferma Amsic. E poi Allan va in avanti da Callejon. Callejon. Prende qui il pallone. La Sampero poi recupera Callejon. Che sbaglia. Callejon. Recupera ancora il pallone. Cross deviato. E altro calcio d'angolo Napoli. battuto da Callejon. Battuto da Callejon. Colpo di testa di Coulibaly. Poi allontana Praet. Allan va da Callejon. Milik. La mette in mezzo. Ancora per Amsic. Che prende la traversa. Incredibile. Non è finita. Mario Rui. Giorginio. Callejon. Allan. E altro palo. Incredibile ragazzi. Una traversa e un palo presi nella stessa azione. Prima davvero grande cross di Milik. Che trova solo Amsic. Amsic che si è trovato nella stessa situazione del primo gol. praticamente però questa volta ha colpito la traversa e poi dopo una serie di passaggi Allan tira e lui invece prende il palo. Attenzione ora Berezischi per Ramirez. Ramirez la mette in mezzo e il tiro è alto. Tiro di Verre. Reina va vicino da Isai. Albiol. Isai va da Giorginio. Poi serve Allan. Allan va da Callejon. Posizione regolare. Callejon. Non lo ferma nessuno. Callejon. Il pallone poi di Insigne Viviano. Incredibile ragazzi. Tantissime occasioni. Milik. Il tiro è alto. Tre minuti di recupero. E poi sarà finita. Viviano va da Ferrari. Ferrari. E finisce così ragazzi. Finisce così. Vinciamo 1 a 0 contro la Sampdoria. Veramente una bellissima partita. Con molte occasioni da una parte e dall'altra. Finisce 1 a 0 con il gol del capitano Marek Kamsik. Speriamo di vincere domani. Bisogna assolutamente tornare alla vittoria. Vittoria che ci manca dalla partita contro la Juve. Una vittoria inoltre ci farebbe arrivare ad 88 punti. e quindi ci farebbe superare il nostro record di punti. E poi contro il Crotone in caso di vittoria avremmo la possibilità di superare i 90 punti. Quindi ragazzi detto questo io vi saluto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. E sempre Forza Napoli.